Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, come state? Spero tutti bene, sono Gabriele e in questo video vediamo un accessorio Apple appena uscito che è veramente una figata terrificante, ma subito dopo la sigla! Ma prima di cominciare, se il video vi piace, ma soprattutto se vi è utile, vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale, ma soprattutto attivate la campanella e le notifiche per non perderti tutti i prossimi video e le novità. Condividetelo su tutti i vostri social. Ora cambiamo visuale. Oh porco! Ragazzi, completamente vuoto. Ovviamente come potete vedere alle immagini, questo unboxing non ha potuto avere luogo, anche perché dentro al pacco non c'era assolutamente niente e purtroppo ho dovuto aspettare che Amazon mi rispedisse il prodotto, non era mai successa una cosa così, comunque sono stati molto pronti e come li ho contattati non mi hanno nemmeno chiesto nulla, gli ho semplicemente detto guarda sono sconvolto perché il pacco tra l'altro era un oggettino abbastanza costoso e è arrivato vuoto e completamente sigillato, questo è il peggio. Nuovo pacco, speriamo di essere più fortunati. Vediamo un po'. Cambiamo inquadratura. Eccole qui, Airpods 3. Così a naso sembrano leggermente più pesanti dell'Airpods 2, ma vediamo subito. Ora sperlicoliamo le due linguette, una e due. Ovviamente non c'è plastica sulla confezione che è molto eco-friendly, amica dell'ambiente. Al suo interno troviamo semplicemente i soliti libretti di instructions, non ci sono adesivi, niente. Ed eccole qua ragazzi, spettacolo. Airpods 3. Ora controlliamo solo cos'altro c'è nella confezione. Solito cavetto USB-C Lightning, come ci ha abituato Apple. Perché non mettete un USB-C USB-C? Almeno sulle Airpods. E qui adesso spellicoliamo. Rimuovo la pellicola. Ah, che godure. Voi non potete capire quanto è bello spellicolare. Ed eccole qui. Wow, wow, wow. Il case è piccolino, un po' più compatto di quello delle Airpods Pro. Allo stesso tempo, se lo giriamo in verticale, può assomigliare al case delle Airpods di seconda generazione. All'interno troviamo fiettine. Guardate che belle che sono. Qui c'è già acceso il LED. Guardate un po'. Niente male. Sono più cortine, più compatte, più bombate e dall'aspetto veramente premium. In più, sono stati aggiunti diversi piccoli altoparlanti. L'astina più corta non può che giovare a questo tipo di cuffia, secondo me. Non sembrerà più di avere uno spazzolino messo nell'orecchio. Il magnete è stato migliorato e molto forte. Si deve esercitare una discreta pressione per togliere dal case. E sentiamo il fatidico... Il click, devo dire la verità, era migliore quello delle Airpods 2. Comunque, ci faremo l'abitudine. Insieme a loro, ovviamente ho ordinato anche una cover, che è sempre fatta dai lago. Verde Mind, come quella delle Airpods di seconda generazione, ve la faccio vedere. L'unica differenza è che questa ha una cerniera in silicone che tiene unite le due parti e questa no. Il motivo è che, ora vi faccio vedere montandole, innanzitutto la forma è diversa ovviamente, ma fin qui. Vedete che se vado a inserirle, tac, combacia perfettamente. E il tappo idem. Il fatto è che queste Airpods si possono ricaricare col MagSafe, ma sono anche magnetiche. Quindi hanno lasciato il magnete in bella vista, in maniera che possa esercitare più forza di attrazione sulla calamità del MagSafe. Detto questo, il materiale, da quello che ho visto, l'ho maneggiato per pochi secondi, ha il fastidioso difetto della prima versione. Cioè, quando lo mettete nelle tasche delle giacche, per esempio, di lano, cosa? Raccoglie una quantità di peli in mane. Potete vederlo qui, guardate. Queste avevano questo problema, ma pensavo, visto che questo silicone è un po' più rigido, un po' più premium, che non avesse questo fastidioso problema. E invece, purtroppo, ce l'ha. Quindi sappiate che se lo acquistate, finché mettete le Airpods nelle tasche dei pantaloni, jeans, oppure nel piumino o in un borsello, non c'è nessun problema. Quando andate a contatto con dei materiali un po' pelosetti, succede questa cosa qua. E pulirla non è neanche esattamente facilissimo, perché, vedete, i peli rimangono. Bisogna proprio prendere un pannetto inumidito, in microfibra, per poterle rendere pulite. Un'altra cosa che ho subito notato è che è vero che la forma, la preferisco alla grande, anche perché penso che staranno molto più ferme nelle orecchie, bisogna anche dire che il peso di questo auricolare è distribuito tutto ovviamente sul padiglione, a scapido dell'astina. E questo fa sì che, se per caso vi dovessero scivolare per terra, penso che cadrebbero nella parte dove è concentrata la circuiteria tecnologica. Cadendo, appunto, vedete, in questo modo. Non so se avranno la stessa resistenza delle Airpods 2. Alla fine, le Airpods 2 erano veramente robuste, le ho rese semplicemente perché una delle due si è sempre sentita un po' più bassa dell'altra. Addirittura utilizzandola con diversi device, che potevano essere Android o iPhone, e quindi con iPhone la prova del 9 è quella, diversi iPhone che avevo a casa, ho provato, riprovato, ma una delle due era proprio fallata. Speriamo che con queste la cosa vada meglio, perché le Airpods forse al giorno d'oggi sono tra le cuffie più versatili in assoluto, almeno secondo la mia modesta opinione. Adoravo le Airpods 2 proprio perché non erano in-ear, ma soltanto appoggiate, però onestamente nel mio orecchio ogni tanto scivolavano via. Con queste penso che il problema sia risolto, ma adesso andiamo subito a provare. Il fatto di non averle ricevute quando le ho ordinate mi ha scocciato parecchio, in quanto volevo portarvele sul canale il prima possibile. Comunque l'importante, adesso basta lamentarsi, l'importante è che sono arrivate, eccole qui bellissime, e ora le spacchettiamo. Ok ragazzi, adesso test orecchie. Vediamo un po'. Ok, mi sono rotto il collo, ma le cuffie non si muovono di un millimetro, una figata assoluta. Questo è già top per me, perché secondo me la prima cosa che deve avere come caratteristica un auricolare di questo genere, che comunque costano un bel po' di soldini, è di rimanere salda nell'orecchio, in maniera che non la perdiate quando vi muovete, o quando fate sport, o fate una corsetta, qualunque cosa sia. Ora vado a testare un po' l'audio, mettiamo Spotify e vediamo un po'. Direi niente male, è stato migliorato davvero molto secondo me, rispetto alle Airpods di seconda generazione, le Airpods Pro non le ho ancora testate, di conseguenza non posso fare paragoni, però secondo la mia modesta opinione queste suonano decisamente meglio, i bassi sono più profondi e gli alti più cristallini. A onor del vero vi dico anche la verità, questo tipo di auricolare è una cosa che molti non dicono, se vengono posizionati un po' male nell'orecchio, nel senso che il foro che deve far uscire l'audio dall'alto parlante, ad esempio si gira un po' in su o in giù, tende a rovinare abbastanza quello che stiamo ascoltando, perché appunto il suono non arriva più diretto al timpano e di conseguenza si sentono poco. Con queste cuffie qui è molto difficile penso, perché restano proprio in posizione. Un'altra caratteristica interessante è data dall'audio spaziale, che è una feature che hanno implementato, ve la spiego, mettete le cuffie, ascoltate un determinato brano progettato per quello, ad esempio un'orchestra e vi sembrerà che il suono, per esempio, di un trombone arrivi in una certa direzione rispetto a dove siete girati voi e poi vi sembrerà magari che, che so, la chitarra arrivi da sinistra più che il violino da destra o, non lo so, un cantante rispetto a un altro musicista. Come se praticamente vi trovaste in una stanza, aveste diversi musicisti di fronte o diversi strumenti e riusciste quasi a collocarli nel punto in cui arrivano i suoni. Non so se avete capito dalla mia spiegazione, forse non sono stato molto chiaro, ma è una cosa veramente figa. Però ci vuole assolutamente una traccia musicale progettata per questo audio spaziale, altrimenti non ve ne accorgerete mai. Una cosa che vi dicevo che non mi è piaciuta assolutamente è il mantenimento d'ingresso lightning, che ok, è vero, nelle cuffie non fa una gran differenza perché hanno delle piccole batterie, e anche il case ha una piccola batteria da ricaricare, quindi è molto veloce. Però, voglio dire, USB-C, USB-C, già nell'iPhone non dovrebbe più esserci il lightning. Però capisco che Apple abbia milioni di quintali di questi connettori da smaltire e quindi ce li continui a propinare in tutti i tipi di dispositivi esistenti. Anche perché non capisco perché negli iPad oppure nei Mac, nei Mac addirittura è tornato al MagSafe, non c'è l'USB-C ma non è neanche la feature principale. Ma voglio dire, negli iPad c'è tranquillamente l'USB-C che è comodissimo, anche quando dovete collegare qualche strumento o cosa, il lightning è proprio preistorico e ha una velocità di trasferimento dati che fa abbastanza pena a giorno d'oggi, soprattutto se si tratta di file pesanti. Devo dire che anche accoppiato a un dispositivo Android, ad esempio questo è un Oppo, funzionano veramente bene, l'audio si sente molto bene, bisogna scaricare una determinata app per farle accoppiare col telefono, però vanno molto bene anche così. Con l'iPhone è ancora meglio e soprattutto con i dispositivi Apple, la loro vera forza è il fatto che sono intelligenti, nel senso che quando voi le mettete nelle orecchie non dovete più preoccuparvi di nulla. State usando l'iPhone, loro capiscono che lo state usando e sentirete il volume dall'iPhone. Usate l'iPhone e magari siete davanti al MacBook piuttosto che all'iPad e le cuffie scollegano l'audio di uno per passare all'altro, quindi spostano l'audio sul device che state utilizzando, riescono a capire quale dei loro dispositivi utilizzi e fanno tutti in automatico. Cosa noiosissima su Android, le classiche cuffiette, devi aprirle, metterle nelle orecchie, andare su Bluetooth, dirgli che devono accoppiarsi col determinato apparecchio, poi dopo un attimo c'è anche un tempo di lag, a volte anche un po' lunghino, si collegano, tac, ok, e la prossima volta di nuovo si ripeterà tutta questa pantomima. Con loro assolutamente no. Le mettete e loro sanno quale dispositivo state utilizzando e dirottano il loro funzionamento su di esso. È stata migliorata anche la durata della batteria, si guadagna un'ora in più, poi questo ve lo farò sapere, questa è una prima recensione, ma io da grande utilizzatore di AirPods, da quando le ho comprate, soprattutto quelle seconda generazione, le avevo sempre le orecchie, che non è una cosa bellissima perché non bisognerebbe comunque portare questi dispositivi molte ore per questioni di salute, ma comunque per la versatilità che hanno, è vero costano un po', ma valgono ogni euro. Non lo dico per farvi pubblicità, io prima, quando utilizzavo Android, neanche me le sono filate per anni, nella prima generazione e nella seconda. Il modello Pro in più ha appunto linear, dipende come avete il padiglione auricolare, potrebbe essere un vantaggio o svantaggio, perché ad alcune persone muovendo la mascella cadono, mentre invece queste rimangono belle salde, almeno per quanto mi riguarda, dipende, ripeto, dal tipo di orecchio che avete. Il fatto di non avere la cuffia in ear a me piace abbastanza, perché sento quello che accade intorno, ma allo stesso tempo queste, rispetto alle AirPods di seconda generazione, chiudono abbastanza il foro dell'orecchio, perché sono più cicciotte, è un buon compromesso dire. Con le AirPods Pro invece avete il vantaggio che se siete in un pullman, in un ambiente molto rumoroso, dovete montare un video, piuttosto che ascoltare musica, con quelle vi isolate totalmente. Ora veniamo al prezzo, costano 199 euro. La cosa un po' strana è che le AirPods di seconda generazione, comunque continuano a costare 179 euro, anche se sono state rimosse, parlo di quelle con la ricarica wireless, mentre continuano a produrre, che mi sembra comunque un po' assurdo, quelle con la ricarica col cavo, e costano un po' meno, 130 o 140 euro. Onestamente queste valgono il balzo, assolutamente. Se invece provenite dalle AirPods di seconda generazione e funzionano bene, potete anche tranquillamente tenere quelle che comunque sono validissime. Io ribadisco, non voglio, non sono un fan Apple fissato, eccetera. Queste cuffiettine qui, se le provate, non ne fate più a meno, credetemi. Sono veramente un prodotto eccezionale. Brava Apple, direi che anche per oggi il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, se avete qualche domanda sulle AirPods, non tardate a farmele, scrivetevi un commento qui sotto e vi risponderò nel più breve tempo possibile. Qui sopra vi lascio il mio secondo canale di cucina, dategli un'occhiata, merita davvero. Nell'infobox invece trovate i miei account Instagram e Facebook, seguitemi anche lì. Qui sopra trovate il link per il video dell'iPhone 13 Pro Max, perché completa il parco di dispositivi Apple. Qui sotto nell'infobox ho creato un piccolo shop, dove potete trovare tutti i prodotti che testo e che utilizzo nei miei video. Se volete acquistare da lì a voi costerà la stessa identica cifra, ma a me darà una piccola percentuale che rinvestirò nel canale per darvi più qualità e portarvi contenuti sempre più esclusivi e interessanti. Ora non mi resta altro che salutarvi, ciao da Gabriele e dalle AirPods di terza generazione, al prossimo sabato alle 9.